Prima un ringraziamento ai suoi ex colleghi per il percorso fatto insieme, poi il dettaglio sull'addio alla maggioranza, l'incontro privato a casa del governatore con il quale, dice, si è lasciato in un clima cordiale, poi la stretta di mano che sancisce l'ufficialità. L'ex presidente del gruppo CON, Giuseppe Tupputi, ora è un componente effettivo del gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, ma non chiamatemi trasformista, precisa. Questo non è trasformismo, ma è solo l'individuazione di un modo di fare politica nuovo, diverso e non attaccato alle poltrone. A determinare l'addio, dice, una mancata visione politica collettiva, piuttosto una visione individualistica da parte del gruppo CON. Aveva un sogno, dice Tupputi, spiegando che l'intero gruppo di amministratori della sua provincia, la BAT, traslocherà un Forza Italia, ora da utopia lo trasformerà in realtà, ma di sicuro non voterà la mozione di sfiducia. I timi politici vanno affrontati nelle aule deputate, a meno che non dovessero emergere altri elementi delle indagini che potrebbero portare a decisioni irreparabili. Pronto ad accogliere lui e chi altro vorrà migrare nel gruppo, il presidente di Forza Italia Pari De Mazzotta, che pur rispettando la posizione del suo neocollega, ha chiara la posizione che assumerà il resto del gruppo martedì prossimo, quando si voterà in aula la sfiducia al governatore. Noi crediamo che questo governo regionale debba terminare perché purtroppo la giunta è in stallo da mesi e abbiamo visto come anche per rinnovare la presenza delle commissioni ci abbiamo impiegato sette mesi, c'è una maggioranza in forte affanno e quindi noi lo diciamo in maniera chiara e lo diremo anche martedì in aula, i pugliesi devono rendersi conto e quello che sta cadendo in puglia.